Buon pomeriggio da Sicilia 24, ben ritrovati, apriamo questa nuova edizione di Spazio Notizia parlando di cronaca e nello specifico di immigrazione clandestina. A Siracusa sono stati arrestati quattro cittadini egiziani per aver fatto reingresso illegale in Italia, ma anche tre scafisti bielorussi. Vediamo il servizio. Agenti della squadra mobile hanno arrestato quattro cittadini egiziani colti nella flagranza del reato di rientro illegale nel territorio nazionale. Gli arrestati fanno parte di un gruppo di 566 cittadini extracomunitari di varie nazionalità, giunti il 22 e il 23 agosto presso il porto di Augusta. L'autorità giudiziaria competente ne ha disposto l'immediata liberazione e contestualmente ha concesso il nulla osta all'espulsione dei quattro cittadini egiziani. Inoltre, gli investigatori della squadra mobile Aretusea, unitamente a personale della sezione operativa navale e della stazione manovra navale di Messina della Guardia di Finanza, hanno operato il fermo d'indiziato di delitto a carico di tre cittadini bielorussi, gravemente indiziati, in concorso tra di loro, del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli arrestati sono stati individuati come conducenti di una barca a vela con a bordo 106 migranti clandestini, presumibilmente partiti dalle coste turche e soccorsi in acque internazionali dalla nave di una ONG. Nelle fasi del soccorso in mare, i tre bielorussi hanno rinunciato a salire a bordo dell'imbarcazione dell'ONG, dileguandosi a bordo della barca a vela con la quale avevano viaggiato. Sono stati intercettati e successivamente condotti in carcere da un pattugliatore della Guardia di Finanza nelle acque territoriali italiane. Un presunto scafista è stato fermato anche a Trapani. Era alla guida di un'imbarcazione che aveva portato dalla Tunisia all'Italia alcuni migranti, il presunto scafista sottoposto a fermo di polizia giudiziaria nei giorni scorsi dagli agenti delle squadre mobili delle questure di Trapani e Palermo. Il giovane, 23enne di nazionalità tunisina, lo scorso 23 luglio aveva guidato una tante con altri cinque connazionali fino alle coste di Pantelleria, dove l'imbarcazione era stata soccorsa dalle autorità italiane. Gli operatori delle due compagini investigative della Polizia di Stato, attraverso un lavoro sinergico compendiatosi nell'escussione di uno dei migranti ospitato sul natante e nell'esame dei telefoni cellulari in uso al dichiarante e all'indagato, hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico del conducente dell'imbarcazione. Il giovane presunto scafista è stato così sottoposto a fermo con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina ed è finito in carcere. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica. Cambiamo argomento, controlli sulla Movida a Marsala, i carabinieri hanno effettuato un arresto e tre denunce. Durante lo scorso fine settimana i carabinieri di Marsala hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi maggiormente interessati dalla Movida, soprattutto nel centro storico della città. Nel corso delle attività sono state denunciate tre persone, in particolare un extra comunitario 23enne per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in quanto è stato trovato in possesso di alcune dosi di ascice e marijuana e una somma contante di 145 euro, verosimilmente provento dell'attività delittuosa. Inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale, altri due giovani marsalesi sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Marsala, rispettivamente per guida reiterata senza patente e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Nella rete dell'arma è caduto anche un noto pregiudicato marsalese di 42 anni, il quale è risultato evaso dalla propria abitazione cui era ristretto agli arresti domiciliari per reati di droga. Dopo alcuni minuti di ricerche è stato rintracciato e arrestato tra le vie del centro città. Controlli anche a Messina e anche in questo caso sono scattati arresti e denunce. I 67 posti di controllo effettuati nell'ultima settimana a Messina dai poliziotti delle volanti hanno interessato un migliaio di persone e circa 400 veicoli. Il consueto controllo del territorio in città ha portato al sequestro di un'autovettura e al rinvenimento e successiva riconsegna ai legittimi proprietari di quattro veicoli rubati. Sono state inoltre elevate sette sanzioni ai sensi del codice della strada. Due invece gli arresti effettuati per reati connessi alla detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È stata anche disposta dall'autorità giudiziaria una misura cautelare, nello specifico un divieto di avvicinamento. Denunciati altresì sette soggetti responsabili dei più disparati reati. Tra questi un settantenne che è stato denunciato per minacce e porto abusivo di strumenti atti a offendere. L'uomo infatti avrebbe brandito un segaccio da giardiniere nel contesto di una violenta lite familiare avvenuta sulla pubblica via. Tre arresti nel Siracusano, due persone, sono finite in manette a Lentini, una invece ad Avola. Vediamo perché. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno interrotto l'attività di spaccio di due rosolinesi, padre e figlio, che vendevano ascice nella zona delle case popolari della città. I militari operanti hanno fermato i due nel corso di un controllo alla circolazione stradale, rinvenendo all'interno del veicolo a bordo del quale viaggiavano 70 grammi di ascice circa. Una successiva perquisizione presso l'abitazione ha permesso di sequestrare anche 120 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria Retusea. I carabinieri della stazione di Avola hanno invece arrestato un giovane del luogo per evasione. Si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, venendo notato dagli operanti nel corso delle attività di controllo del territorio. Dopo l'arresto, la procura della Repubblica Retusea ha disposto per il giovane i domiciliari. Un altro tragico incidente stradale in Sicilia, un uomo di 70 anni, Salvatore Gianbelluca di Pollina, è morto ieri sera a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla statale 113 nei pressi di Cefalù. Il pensionato era alla guida della sua auto quando si è scontrato frontalmente con un altro veicolo sul quale viaggiavano due turisti rimasti feriti. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono intervenuti sanitari del 118 ma per il settantenne purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo infatti è morto sul colpo. Ci spostiamo adesso a Caltagirone. Rapine e botte alle vittime è stato arrestato un 22enne dai carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone hanno arrestato nella flagranza di reato un 22enne del posto in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. La vicenda ha avuto inizio nella serata del 17 agosto allorché la centrale operativa della compagnia carabinieri, intorno alla mezzanotte, ha ricevuto una richiesta di intervento in via dell'autonomia. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno notato la presenza di un uomo, un 54enne titolare di una rivendita mobile di panini, il quale tamponava sulla testa una borsa di ghiaccio per lenire gli effetti dei colpi ricevuti pochi istanti prima da un 22enne che durante l'intervento dei carabinieri si ripresentava sul posto cercando nuovamente lo scontro fisico con quest'ultimo, nonostante la presenza dei militari che si sono interposti per calmare gli animi. Passato solo qualche minuto, i militari, giusto il tempo di acquisire le prime informazioni sull'accaduto, sono stati costretti a richiedere l'immediato intervento del personale del 118 per soccorrere la moglie 52enne dell'uomo che anche lei per le botte ricevute aveva avuto un malore. Dalle indagini fin qui svolte emergerebbe che il giovane, con l'escamotage di scambiare una banconota da 50 euro, avrebbe ottenuto la disponibilità della donna a consegnargli delle banconote di taglio più piccolo e a quel punto, strattonando il braccio della donna, le avrebbe strappato i soldi dalle mani, provocando in tal modo la pronta reazione del marito che lo avrebbe inseguito e attraverso il finestrino del passeggero all'interno dell'autovettura del malvivente avrebbe ingaggiato una colluttazione per recuperare le somme, venendo però attinto da numerosi colpi al capo. La moglie, intervenuta in suo soccorso, ha recuperato la somma ma è stata colpita al volto. I militari nel corso della nottata hanno svolto altri accertamenti dai quali è emerso che il giovane avrebbe sottratto indebitamente somme di denaro ai danni di altri esercizi commerciali dislocati a poca distanza tra loro. In particolare avrebbe dapprima sottratto dei soldi a un 54enne esercente di un'ulteriore rivendita di panini in via Madonna della Via, quindi con analoghe modalità sarebbe passato al commesso 44enne di un bar di via dell'autonomia e infine, poco distante, avrebbe rivolto le proprie attenzioni all'ultimo obiettivo che però ha visto la pronta reazione delle vittime. Il 22enne, all'esito dell'udienza di convalida, si trova associato al carcere di Caltagirone come disposto dall'autorità giudiziaria. A Paternò è stata arrestata una donna che derubava gli anziani nelle loro abitazioni. I dettagli nel servizio. Su delega della procura distrettuale della Repubblica, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali nei confronti di Graziella Statella, 44enne del posto. La donna, unitamente ad altre due complici, si era resa responsabile nel 2011 di una serie di rapine perpetrate ai danni di anziani nel centro cittadino di Paternò. In particolare, il gruppo riusciva a guadagnarsi la fiducia della vittima mediante l'effettuazione di pulizie domestiche o anche la promessa di semplice compagnia. Quindi, dopo averne vinto la diffidenza, agivano con spregio di Katezza, depredando gli anziani di ogni bene di valore. La donna, che dovrà espiare la pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di rapina, è stata associata al carcere catanese di Piazza Lanza. Avevano una gestione menageriale dello spaccio di droga con tanto di listino con i prezzi esposti ai clienti. Sono stati arrestati due pusher a Catania. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato due catanesi di 28 e 35 anni sorpresi nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La loro costante attività di contrasto ai reati in materia di droga aveva indirizzato i militari in una palazzina di Vialenitta e in particolare in uno dei suoi numerosi appartamenti, ritenuto un vero e proprio centro di smistamento dello stupefacente. I numerosi servizi di avvistamento hanno consentito ai carabinieri di individuare l'appartamento in questione, carabinieri che hanno poi proceduto a riscontrare le loro ipotesi investigative mediante una perquisizione, attività questa che è stata facilitata dagli stessi spacciatori i quali avevano incautamente lasciato la porta d'ingresso socciusa. Facile pertanto immaginare lo stupore dei pusher quando all'interno dell'appartamento, senza alcuna possibilità di fuga, si sono materializzati i militari che hanno constatato quello che era in effetti un efficiente market della droga. I due spacciatori, in particolare, di cui uno risulta percettore del reddito di cittadinanza, sono stati sorpresi durante l'operazione di pesatura della droga che avevano riposto su un tavolo in varie bustine di plastica contenenti complessivamente circa 400 grammi di marijuana, 25 di cocaina e 15 di crack. Oltre all'immancabile materiale per il confezionamento delle singole dosi, due bilancini di precisione, tre fogli di blocnotes con appunti attestanti l'attività di compravendita, con quantità e nominativi, nonché la somma di 38 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Ma stavolta una circostanza più di altre ha tratto la curiosità dei militari, ovvero l'impostazione menageriale nella vendita degli stupefacenti, con tanto di listino, condicitura, nuovo prezzo e il corrispondente quantità-prezzo di vendita incollato sul tavolo, avanti al quale si alternavano gli acquirenti con metodica e paziente fila. I due arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati associati in carcere rispettivamente a quello di Noto, il 28enne, e di Piazza Lanza, il 35enne. Per quest'ultimo, all'esito dell'udienza di convalida, è stata disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari. Restiamo in tema, ma ci spostiamo a Siracusa. Agenti del commissariato di Ortigia, nell'ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato 31 dosi di marijuana e 20 dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio, nascoste tra le sbarre in ferro dell'ex carcere borbonico di Ortigia. Cambiamo adesso argomento, parliamo di maltempo, una bomba d'acqua si è abbattuta stamane su Lipari, le immagini che vi mostriamo sono state postate su Facebook da una cittadina, tanti ovviamente i disagi e le vie allagate con molte persone rimaste bloccate in casa in diverse zone della città. Il corso Vittorio Emanuele si è trasformato in un vero e proprio fiume in piena con auto travolte e negozi invasi dall'acqua. Sul posto ovviamente sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche i volontari della protezione civile. E con questa notizia ci fermiamo, non ci sono altri aggiornamenti, ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori.